Gli agenti della Polizia Municipale hanno aperto una nuova indagine dopo l'ennesima denuncia di un presunto sversamento di liquami fognari nel mare di San Leone presentata dall'Associazione Mare Amico, Delegazione di Agrigento. Due giorni fa i vigili urbani del NOE, Nucleo Operativo Speciale, hanno effettuato dei prelievi, provvedendo a consegnare campioni di acqua ai laboratori analisi dell'ASP di Agrigento. Si cerca di fare subito chiarezza su una vicenda che scotta anche perché la stagione estiva è ormai dietro l'angolo e la posta in palio è molto alta. Agrigento non può rischiare anche quest'anno di fronteggiare il problema dell'inquinamento marino che ha causato tanti problemi negli ultimi tempi. Commercianti e imprenditori salionini sono sul piede di guerra perché preoccupati da questa nuova denuncia di presunto sversamento in mare dei liquami. L'economia agrigentina è molto debole in questo momento ed è quindi necessario fare in modo che tutto possa essere risolto tempestivamente per non allontanare i vacanieri da San Leone. La Procura ha fatto e sta facendo ciò che le compete, cioè stabilire se vi è stato alcuno e chi nel caso che abbia compiuto qualche reato, perseguendolo personalmente. Ma è alla politica che tocca trovare responsabili ed anche le soluzioni sulla questione per fare in modo che il lavoro ad oggi compiuto dai magistrati non sia inficiato il giorno dopo l'emissione delle sentenze.